Viviamo nell'ansia giorno e notte e così la padrona della villa svaliggiata dai ladri o piccina, gruppo whatsapp dei residenti per segnalare persone sospette, chiesta più vigilanza. Fondi regionali per l'installazione di telecamere di sorveglianza anche nei condomini, l'annuncio stamani a sveglia a Trieste dell'assessore alla sicurezza Roberti. Corteo antifascista del 3 novembre a Trieste anche i dem di Gianni Cuperlo e Andrea Orlando, sentiamo l'esigenza di aderire senza tentennamenti. 60 famiglie senza gas in via San Benedetto a Chiarbola, rabbie, tempistiche, dubbie per la fine dei lavori mentre ci si attrezza con forne e letti da campeggio. Pavimento di piazza unità, cedimenti dopo il treno esposto in barcolana, di piazza per in futuro penso ai Masegni, ma basta con queste cose, in futuro tutto in Portovecchio. Il mondo del caffè vola in Portovecchio per la nona edizione di Trieste Espresso Expo, 200 espositori per l'evento, 12.000 visitatori, il 52% stranieri. La palla a mano alla barda sostituisce Miscovic con Dusan Sipka, forte terzino servo trentenne di un metro e novanta con il ritorno di Lecovic, si può pensare allo successo. Buonasera e bentrovati a una nuova edizione del telegiornale di Telequattro. In apertura torniamo a parlare dei furti in villa sul Carso, un'ansia continua che rende difficoltoso anche il riposo notturno. Una delle proprietarie della villetta di Opicina, bersaglio di un'incursione da parte dei ladri nella mattinata di lunedì, racconta ai nostri microfoni il grande disagio che lei e i suoi familiari stanno vivendo. Enrico Scaramucci. Quello che noi proviamo, soprattutto io, perché io sono l'ultima che è uscita, c'è proprio l'ansia di essere osservata probabilmente tutto il tempo e io e la mia sorella disabile diamo la facciata sulla finestra. Cioè al pensiero che qualcuno probabilmente da giorni o chissà da quanto tempo ci stava osservando, c'è proprio l'ansia più grande. A distanza di tre giorni dal furto messo a segno nella loro villetta, i componenti della famiglia residente in via di Basovizza Opicina, padre, madre e tre sorelle, sono ancora molto provati per quanto accaduto. I ladri hanno colpito in pieno giorno, attendendo il momento propizio per introdursi nella casa in quel momento deserta. Hanno messo sotto sopra tutto il secondo piano, poiché non hanno probabilmente fatto in tempo a scendere al primo piano perché il distacco tra la mia uscita e il rientro di mia madre è di circa 50 minuti, quindi non avranno fatto in tempo. Poiché a due passi dalle nostre abitazioni si trova la stazione dei Carabinieri, continua abita Valipur, tutti noi residenti in questa zona pensavamo, evidentemente a torto, di essere ragionevolmente immuni da incursioni di malviventi nelle nostre case. Ma la realtà è diversa e quindi abbiamo deciso di coalizzarci in una sorta di difesa comune. Noi adesso viviamo perennemente con l'ansia, questa è la cosa più brutta. Abbiamo un gruppo Whatsapp e siamo tutti che riportiamo persone sospette che vediamo, che non conosciamo. Banalmente l'altro giorno io ho visto due signori andare avanti indietro, ho riportato questa cosa, poi ovviamente non succede, però non si sa mai, dato che quando succedono a te le cose ci pensi molto di più. E la richiesta dei residenti nei confronti delle autorità è sempre quella, da più parti ripetutamente invocata, maggiore sicurezza. Non chiediamo una pattuglia ogni 100 metri, però dato che Upicina adesso è nel mirino dei ladri, perché ogni giorno, anche ieri, c'è stato un altro furto, quello che chiediamo è un po' più di controlli, dato che tutti i furti sono circa simili, probabilmente cercano sempre oro, molto probabilmente sono zingari, andare a controllare tutto qua. E restiamo in tema di sicurezza, perché questa mattina a Sveglia Trieste l'assessore regionale della sicurezza Roberti ha parlato di incentivi, di fondi per l'installazione di telecamere di sorveglianza anche nei condomini. Per quanto riguarda le telecamere per i condomini, già quest'anno, sul 2018, ci sono i contributi per i privati per sistemi di anti-intrusione e di video sorveglianza per le abitazioni private. Quindi ogni comune, la regione dà i soldi, il comune prepara il bando e manda fuori il bando, o l'UTI in questo caso, manda fuori il bando, e a quel punto il cittadino farà domanda e può ottenere il 50% di quanto speso, per un massimo di 1.500 euro. Questo cosa vuol dire? Però era soltanto sulle abitazioni singole, quindi soltanto chi aveva casa singola. In questo caso, con la modifica normativa che abbiamo fatto, introdotta in assestamento in luglio, ci sarà la possibilità di accedere a questo contributo anche per i condomini. Quindi, come diceva giustamente il telespettatore, uno potrà andare in assemblea condominiale, proporre l'installazione di telecamere di video sorveglianza all'ingresso del proprio stabile, in modo da poter monitorare sempre la situazione, ed è sicuramente un elemento di grande deterrenza in un condominio, e avere un contributo del 50% restituito, dato subito dal comune tramite la regione. E quindi sicuramente questo potrà anche dare un notevole impulso all'installazione di telecamere. Per quanto riguarda OPCina, ormai, adesso non sto seguendo più io, lo sta facendo Paolo Polidori, ovviamente dal posto mio, ma siamo in partenza con il trasferimento del distretto di OPCina sull'altipiano, come doveva essere, come avevamo promesso, e questo proprio per garantire il fatto che non ci fosse soltanto il passaggio della macchina della polizia locale, ma ci fosse un presidio fisico fisso, sempre nel principale paese del Carso di polizia locale. Parliamo ora dell'incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada costiera, un'auto in fluga dal posto di blocco è finita contro il guardrail, il conducente senza patente e il passeggero sono rimasti lievemente feriti, lo scontro poco prima del ristorante Tenda Rossa in direzione Monfalcone. L'auto, con a bordo due persone, entrambi maggiorenni, non ha rispettato l'alt di una patuglia dei carabinieri di Aurisina, ma invece accelerato. Una fuga improvvisata, data dal fatto che il guidatore si è scoperto in seguito, guidava senza patente. Ed ora un'altra notizia invece di servizio, non ci sarà alcuno sciopero dei mezzi pubblici domani a Trieste, contrariamente a quanto avviene nel resto d'Italia. Trieste Trasporti fa sapere come non sia previsto per domani alcuno stop alla circolazione dei mezzi pubblici, il servizio sarà dunque regolarmente garantito. Torniamo a parlare invece del corteo antifascista del 3 novembre, la risposta a Casa Pound, ci saranno anche i dem cosiddetti di Gianni Cuperlo e Andrea Orlando alla manifestazione. Sentiamo il servizio. Noi vogliamo costruire una manifestazione larga, partecipata, pacifica e determinata a dire che a Trieste non c'è spazio per organizzazioni di questo tipo, in generale non c'è spazio per il fascismo, il razzismo e il sessismo. A poco più di una settimana dall'annunciato corteo di Casa Pound in città cresce la preoccupazione dell'Assemblea di Trieste antifascista per il percorso che, secondo notizie ancora non ufficiali, dovrebbe toccare luoghi centrali e sensibili della storia cittadina. Non abbiamo ricevuto ancora una risposta ufficiale dalla Questura, mentre invece sappiamo che la Questura vuole concedere a Casa Pound un percorso non centrale di più, quindi con partenza da Via Imbriani arrivo in Piazza Oberdan, a pochissima distanza da tanti dei simboli della tragedia, del nazifascismo qui a Trieste. Parliamo dell'ex sede dell'SS, parliamo del Narodnidom, parliamo del Conservatorio Tartini. Noi crediamo che questa cosa smentisca le dichiarazioni pubbliche che la prefetta ha fatto nelle settimane scorse. Aveva dichiarato che appunto Casa Pound non avrebbe sfilato in centro. Il corteo antifascista partirà da Campo San Giacomo alle 3 del pomeriggio, ma dalle ultime indicazioni riportate in conferenza stampa oggi dovrebbe fermarsi già in Piazza Goldoni. L'Assemblea definisce la manifestazione di Casa Pound uno sfregio alla nostra città, dove l'organizzazione intende mettere radici, hanno dichiarato i portavoce. Noi siamo convinti che Casa Pound non dovrebbe proprio manifestare. Alcuni dirigenti locali hanno dichiarato che la loro è un'organizzazione non di destra, ma fascista nei giorni scorsi sul giornale locale. Penso che questo li qualifichi come fuori dal perimetro democratico della nostra società. Ci aspettiamo una crescita di adesioni, ci aspettiamo soprattutto che larga parte della città si indigni per quello che le istituzioni locali stanno permettendo a questa organizzazione di fare il 3 novembre e non solo. E questa sera torna a Ring in studio con Ferdinando Avarino, Francesco Russo del PD, Mauro Capozella del Movimento 5 Stelle, Antonio Calligaris della Lega, Laura Chies, docente di politica economica, e Maria Teresa Bassaporopat dei cittadini insieme per Trieste. Ci sarà anche Pietro Gurian, commercialista, per parlare del incubo della fatturazione elettronica. Ora invece ci spostiamo nel rione di Chiarbo, la 60 famiglie senza gas in via San Benedetto. Rabbia e tempistiche dubbie per il ripristino effettivo del gas. Nel frattempo ci si attrezza con fornelletti da campeggio. Improvvisamente si è venuto a scavare, a spaccare, alle 10 di sera ho messo il biglietto su, chiuso il gas. Non so cosa dire, certo che è un problema che fa un po' schifo, diciamo. Loro aprono e se ne vanno, poi chi li vede li vede. Le voci che avete sentito sono quelle dei condomini di via San Benedetto, questi appartamenti che si affacciano proprio sull'ex Palasport di Chiarbola, i quali sono rimasti senza gas e vi rimarranno per un periodo di tempo al momento indeterminato. Sino al 6 novembre dice un avviso, un altro avviso a posto nei portoni il 22 di ottobre, parla di tempistiche tra i 10 e i 30 giorni. No, mio figlio ha un'induzione, diciamo, due fuochi in induzione, più un fornillo grande a gas e più un piccolo per caffè a roba a gas. Mi ha toccato andare a comprare due piastre per cucinare. E mia mamma che ha 91 anni è... No, seccati perché sai con una piastra sola e far da mangiare altro è un po' così. Diciamo che potevano brigarsi prima, no? Le opere da realizzare tra l'altro sono complesse perché da una parte ci sono i lavori di Acegas che arrivano sino alla soglia dei condomini, poi invece ci sono tutta una serie di impianti da mettere a posto all'interno dei condomini, quindi lavori in capo all'amministrazione stabili, anche perché c'erano delle fuoriuscite di gas, delle perdite, quanto mai preoccupanti. Spandevano bene, ecco, perché qua c'era tutta la terra che ha scavato e ha putto niente di gas. Quei tubi che sono messi sotto, con il terreno che abbiamo noi, sono spesso allagati e allora a un certo punto si deteriorano. Certo, loro trovano questi difetti, lo fanno, solo che vanno sai per le lunghe. Arrabbiata? No, pugiata. Dice, è meglio ridere? Eh sì, perché cos'è la vuole? Con tanto sangue amaro che avevamo, ancora questo manca? Grazie signora. Torniamo a parlare della pavimentazione di Piazza Unità che ha subito alcuni cedimenti che alcuni hanno collegato anche alla recente esposizione del treno durante la settimana della Barcolana. Il sindaco di Piazza dice, per il futuro penso in Masegni, ma basta con questo tipo di manifestazioni, in futuro si farà tutto in Porto Vecchio. Sindaco, situazione di Piazza Unità, alcuni lamentano il discorso del treno che non c'entra con il Comune, ma fatto sta c'è questo problema di nuovo al centro della piazza. Il problema della piazza è quando l'architetto ha fatto una piazza senza giunti di dilatazione. Le pietre per anni hanno cercato dove andare, si sono sollevate con i problemi di Diziane e tutto distrutto ormai perché le pietre non riescono a muoversi. Quando sono rientrato sindaco, ho fatto al centro, abbiamo tolto le pietre, abbiamo messo questa lamiera e adesso non si rompono più. Prima le pietre praticamente si sgretolavano fra loro perché non sapevano dove andare. Dopo c'è il problema dei concerti, del trenino e chi ne ha più ne metta che entrano con i tir. Nei prossimi anni questo sarà il luogo per fare le manifestazioni perché Piazza Unità non sarà più deputata per le grandi manifestazioni e l'idea, ma ripeto è solo un'idea, è quella di mettere al centro della piazza di vecchi Masegni se riesco a ritrovare fra il Porto Vecchio e quello che stiamo scavando in città, i Masegni e avremo i metri quadrati al centro lasciando le lucette azzurre dal Caffè degli Specchi fino alla Fontana al centro si potrebbe rimettere, ma ripeto è un'idea. Masegni che avrebbero anche più tenuta? No, 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 non è quello, è solo un problema estetico. Si è svolto oggi al Ministero dello Sviluppo Economico il tavolo istituzionale inerente alla situazione dell'azienda Flex, stabilimento di Trieste, a cui hanno partecipato i rappresentanti dell'azienda, le rappresentanze sindacali dei lavoratori e quelli della regione. Un tavolo che si è concluso con l'ottimo risultato della trasformazione dei contratti di somministrazione in contratti a tempo indeterminato e staff leasing. Per quanto concerne l'attuale numero di dipendenti, ovvero 405 lavoratori a tempo indeterminato e 227 su somministrazione, l'azienda si è impegnata a convertire a tempo indeterminato i contratti di 100 lavoratori e in staff leasing altri 127, un miglioramento ottenuto grazie a un importante lavoro anche a livello istituzionale. Parliamo invece ora del nuovo servizio CAF che è stato aperto in via Mazzini presso la sede dei servizi sociali del Comune. Era diventato necessario, c'è stata una grandissima collaborazione con i CAF e abbiamo quindi aperto questi sportelli che daranno delle informazioni preziose proprio per ottenere tutti quei benefici che di fatto le amministrazioni sia regionali sia nazionali stanno mettendo in campo. Presentato stamane presso la sede dei servizi sociali del Comune di Trieste, un nuovo sportello aperto al pubblico già dal 15 ottobre scorso che va ad affiancare quelli attivi al pian terreno dello stabile di via Mazzini 25. Si tratta di un servizio che ricalca quelli offerti dai CAF, i centri di assistenza fiscale che normalmente troviamo presso sindacati e associazioni di categoria, peraltro dedicati in maniera specifica ai cittadini che ha bisogno di consulenze e orientamento per le pratiche e gli adempimenti necessari per l'accesso ai benefici sociali. C'è ormai una grandissima collaborazione perché i dati sono fluttuanti e devono essere messi all'interno di un circuito di comunicazioni che devono essere sempre più precise, ecco perché questa collaborazione con i CAF per noi è importante. Il nuovo sportello che è aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 12 in poco più di una settimana di sperimentazione, sottolinea l'assessore Grilli, ha già registrato circa 50 accessi, a dimostrazione evidente che l'utenza ha apprezzato la nostra iniziativa, soprattutto perché facilita e velocizza procedimenti spesso complessi ed è fondamentale per chiarire le situazioni individuali, come ad esempio la compilazione di un ISEE corretto in base alla molteplicità di variabili personali. Il fatto che siano all'interno di via Mazzini ci consente di avere delle informazioni più veloci, più precise e più inerenti a quelle che sono poi le esigenze del territorio. Questo per noi è fondamentale, proprio perché le indicazioni sono tante e come dire, le istituzioni sono tante, c'è il Comune, c'è l'Inps, c'è l'Insiel, c'è tanti sistemi che convergono assieme. Oggi con questo sistema potremo dare delle informazioni integrate e concise su quelli che sono poi i parametri di accesso dei benefici. Qualche istante di pubblicità, a tra poco. Giornale di Telequattro, notizia dell'ultima ora, il provvedimento relativo ai centri di accoglienza speciale CAS contenuto nella proposta di legge presentata in Consiglio regionale permetterà ai comuni di avere finalmente un ruolo decisionale sul tema dell'accoglienza dei migranti, lo afferma l'assessora alla sicurezza Roberti in merito alla proposta di legge relativa appunto ai centri di accoglienza speciale. Ci spostiamo a Tarvisio con la cronaca, un cittadino italiano di 32 anni, residente in Campania, è stato arrestato per detenzione e ricettazione di armi clandestine e relativo munizionamento. Si trovava a bordo di una Renault Clio con targa bulgara e manifestava un certo nervosismo durante il controllo dei carabinieri che hanno trovato nell'auto 15 pistole e 400 cartucce contenute in un borsone pieno di vestiti tenuto sotto il vano della ruota di scorta. L'uomo è stato portato in carcere a Udine. Torniamo a Trieste, sono stati presentati stamani dal Comune gli appuntamenti attraverso i quali la sezione triestina dell'Associazione Nazionale Bersaglieri celebrerà i cent'anni del primo ritorno della città all'Italia, giornata clou e non poteva essere diversamente, sabato 3 novembre. Umberto Bosazzi. La sezione triestina dell'Associazione Nazionale Bersaglieri Enrico Totti per celebrare il centenario dello sbarco dei fanti piumati a Trieste ha fatto le cose in grande e stamani al Museo d'Arte Orientale scelto dal Comune per presentare eventi di una certa importanza ha illustrato il calendario delle manifestazioni che inizieranno già martedì 30 ottobre con l'inaugurazione di due mostre, una in Sala Comune alle d'Arte, l'altra in Sala Verude e un convegno in Sala Bobi Bazlen. Il giorno dopo nella Sala Grande della Camera di Commercio convegno storico su Enrico Totti dedicato alle scolaresche. Il giorno più importante è però sabato 3 novembre. Si comincia alle 9 in scala reale col saluto la staffetta per San Giusto e l'alza bandiera solenne. Ci sarà un gruppo di corridori di tutte le società triestine che porteranno la bandiera sua a San Giusto. Sarà messa giù la bandiera come 100 anni fa, perciò sarà l'evento clou, lassù sarà un'ora di caduti, sarà l'inno, sarà tutta una manifestazione importante. Perciò l'annullo filatelico poi alla mattina dopo fatta la manifestazione sarà l'annullo filatelico organizzato col Comune insieme con la Totti in Piazza della Bossa. Ci sarà un free point per tutta l'organizzazione, avremo un concerto in Piazza Unità. Il 4 novembre i bersaglieri triestini saranno a Re di Puglia e la presenza del Presidente della Repubblica e quindi seguiranno Sergio Mattarella a Trieste per la cerimonia rievocativa del primo ritorno di Trieste all'Italia. Alle 17.30 infine un concerto rievocativo della Grande Guerra al Teatro Verdi. Il primo del Comune è quello di celebrare questi avvenimenti che da tragici quali sono nati oggi diventano una commemorazione non solo storica ma una commemorazione etica. Oggi presentiamo questa iniziativa dei bersaglieri. I bersaglieri sono un corpo che ci ha sempre affascinato e che abbiamo sempre amato. Persone che ci hanno insegnato a vivere di corsa dove la corsa non è apprensione. La corsa è raggiungere quegli obiettivi che il nostro Paese vuole raggiungere anche perché le nuove generazioni cambino, cambiano la società, abbiano varie prospettive migliori di quelle che noi abbiamo vissuto nei momenti tragici di una guerra a cui poi ne è succeduta un'altra dopo poco più di 20 anni. Open Day all'Università oggi per i percorsi di orientamento a favore dei giovani che escono dal percorso delle scuole superiori. È bello pensare che questo risultato di afflusso di studenti non sia il risultato di una campagna di comunicazione ma di tante attività di orientamento che facciamo a loro favore. Oltre 10.000 studenti, un vero record, hanno letteralmente invaso l'aula magna, gli spazi didattici e i laboratori dell'Università di Trieste. Oggi e domani infatti all'Ateneo si svolge l'Open Day, ossia le porte aperte rivolte ai giovani delle scuole superiori triestine, in particolare del quinto anno, nel corso del quale possono assistere alla presentazione dei corsi, approfondire l'offerta didattica, chiarire i dubbi ricevendo un aiuto per scegliere il loro futuro percorso formativo. Questi studenti stanno assistendo a presentazione di tutti i corsi di laurea, dell'area scientifica, dell'area umanistica. Se una volta c'erano alcuni corsi che erano particolarmente affollati mentre altri invece avevano poche richieste, adesso vediamo, proprio questa mattina, vediamo le aule piene. In passato queste due giorni si svolgeva in primavera ma sono state proprio le scuole a chiedere all'università di anticipare questo evento. Grande collaborazione, grande rete con le istituzioni, con i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Quindi devo dire ecco un ottimo, un gran lavoro organizzativo e di contenuti che coinvolge noi ma coinvolge proprio tantissimi docenti. Abbiamo circa 200 docenti che partecipano ogni anno anche all'attività di orientamento e questo penso sia il risultato dei grandi numeri che vediamo in queste due giornate di Porta Aperte in Ateneo. Aperto invece i battenti Portovecchio, Trieste, Espresso Expo, la fiera più importante in Italia dedicata alla tazzina e a tutto il mondo del caffè che le sta intorno e appunto mirata agli addetti ai lavori. Un caffè al volo o un caffè in volo? Alla nona edizione di Trieste Espresso Expo è possibile provare entrambi. Il primo nelle varianti raccolte, confezionate, tostate e proposte in tazzina dai 200 espositori. Il secondo con l'aiuto di un drone che stamani per inaugurare l'evento nei capannoni del Portovecchio ha recapitato la bevanda più apprezzata al mondo al primo cittadino di Trieste. Abbiamo offerto un caffè al nostro sindaco portato dal drone all'interno di una struttura per cui è una tecnologia in crescita. Diciamo che questo mondo vive di innovazione, vive di tecnologie. Ogni anno assistiamo a cose nuovissime, macchine, caffè intelligenti, spaziali per cui direi che ormai è consolidata la nuova edizione, la non edizione del Trieste Espresso Expo a Trieste, consolidata con la caratteristica di Trieste, capitale del caffè nazionale. Trieste Espresso Expo è un evento B2B dedicato agli addetti ai lavori e organizzato dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia e dal Comune di Trieste, realizzato dall'azienda speciale Aries Scarl in collaborazione con l'associazione Caffè Trieste e Fipe. Fino al 27 ottobre sono attesi oltre 12.000 visitatori di cui il 52% stranieri. In futuro Trieste Espresso Expo sarà ospitata nel nuovo polo fieristico e congressuale che nascerà in Porto Vecchio per ospitare Ezov. Parliamo ora di pallamano perché arriva un nuovo straniero per l'alabarda a rimpolpare la rosa che ora può sognare anche lo scudetto. Si tratta del forte terzino serbo Dusan Sipka. L'alabarda Trieste non si può più nascondere dopo l'arrivo del terzino serbo Dusan Sipka che sostituisce il poco convincente Miscovic mandato in prestito all'Albona. Ora la lotta per lo scudetto non è più solo un sogno. Terzino mancino di 30 anni fino a pochi giorni fa in forza all'RK Voivodina. L'anno scorso è Romania dove giocava anche la Coppa. Porta esperienza internazionale e grande talento. Sono felice di aver fatto questo salto nella mia carriera. Ho seguito le partite di questa prima parte del campionato di Trieste. Voglio aiutare la squadra a migliorare ancora nel resto della stagione. Spero faremo buoni risultati e ancora altri grandi vittori. Con il rientro di Lekovic fissato tra un mese circa, la formazione triestina potrà contare su un duo di terzini di livello europeo. Era dal 2005 che non succedeva. Da quel tempo la formazione triestina non poteva contare su una coppia di stranieri del genere. Sicuramente i tifosi ci sono sempre vicini e auspicano che possiamo andare più in alto possibile. Adesso speriamo anche di recuperare prima possibile Lekovic perché è un infortunio purtroppo che ha danneggiato un attimo la forza della squadra. Ma siccome fortunatamente il campionato è fermo circa un mese, speriamo di recuperare per tempo e poi avere due terzini di alto livello. Bene, è tutto per quanto riguarda il nostro telegiornale. Appuntamento a domani. Buona serata. Grazie.